Il Tribunale a Torino l'udienza preliminare per lo spaccio al Parco Basse di Stura, il cosiddetto Tossic Park, che sembra essere tornato alla normalità. I servizi. Fino al giugno scorso erano i padroni del Parco Basse di Stura, il cosiddetto Tossic Park a Torino. Stamane sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare. 42 imputati, 23 detenuti, quasi tutti africani. Comune e Regione hanno chiesto di costituirsi parte civile, rappresentano l'insieme della comunità. Stessa richiesta dai comitati spontanei, quei cittadini toccati direttamente dal degrado. Per questi comitati essere presenti nel processo rappresenta un salto di qualità. Il fatto di entrare nelle auge giustiziarie, il fatto che i cittadini siano presenti dove c'è un processo, vuol dire anche che la giustizia fa il da te che noi non abbiamo mai condiviso e viene messa da parte. Gli avvocati difensori hanno ottenuto un rinvio e il giudice deciderà il 20 maggio. La procura di Torino è comunque d'accordo che i comitati spontanei siano presenti nel processo. Significa che comunque le istituzioni da un lato e quegli organi che in qualche modo rappresentano i cittadini dall'altro entrano in questi processi a tutela delle vittime poi di questi reati, che sono certamente i tossicodipendenti, ma sono anche i cittadini che vivono in queste zone degradate. Gli imputati sono nullatenenti, non hanno casa, beni, mezzi. Ottenere un risarcimento sarà difficilissimo, ma per i comitati spontanei conta il principio del riconoscimento del danno subito. Le possibilità concrete poi di avere risarcimento sono poche. Se ci saranno ne prenderemo atto, ma non è questo il nostro fine principale, cioè quello di avere dei soldi.